Dove? Sì, arrivarono! Sì, wright, 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 ho sentito wright Vedi che c'è il portale? Ah, ho preso il portale, bastardo! Qua sotto! 43 Vedo il portale e provo a farli Arrivo con te Fatto Ho fatto uno, l'ultimo? Dai, l'ultimo qua, l'ultimo qua, Massimo, ma qui Arrivo L'hanno arrestato, dai No, si è chiuso il portale Mi ho fatto uno, Massimo Guarda se lo resta, per favore Ah, Massimo, sto qua Fracagnetta Posso andare a salvare un like Sperto Dio Sperto Di Ci sono uno con Khausti Ho deciso uno Oh cazzo Oddio E' da solo Eh devono arrivare per forza Spera che non abbia Eh si è baggata la mia Guarda che esce fuori quella lì Esce fuori No? E' alla sinistra? Che culo Vale come da bambino Mi scappa da pisciare Quando mi nascondo E' la corazza blu 165 Lo shot col pompa in testa Ci faccio 100 Anche 110 Solo carica il massimo Arrivano Qua sopra Ce l'ho una chance Prova a giocarmelo No Non uscire di fuori Ok No c'è una Di io dove si sparano? C'è da sopra Ciò che volevo Ok la finestra Ok la finestra Ok la finestra Ok la finestra Galeta Ok la finestra Ok la finestra Ok la finestra Non èπα Che tanti No Attenas misery 10 secondi, non devo aspettare più lungo quanti sono ancora? nooo nooo oddio che ansi, te non ti mangi l'ansia te non ti mangi l'ansia oh no, vabbè, sono rimasto anche abbastanza a calma sono rimasto decentemente che schifo comunque loro, eh potevano pushare benissimo in due da due parti mi avrebbero fatto, uno passava fuori safe, uno dall'altro mi facevano